Alla questione dei sondaggi e rispetto alla questione dei sondaggi. Allora, io ho detto sia in provincia, quando siamo stati convocati, sia in prefettura, che non ho il timore dei sondaggi né dei dati che i sondaggi possono mettere a disposizione. Perché ritengo che in un tempo, quale è il nostro, raccogliere dei dati sia, per quanto riguarda il terreno, sia tutelante, sia per l'eventuale realizzazione dell'opera, sia per quanto riguarda la gestione corretta dei fondi pubblici.